Mi chiamo Giancarlo Rapetti, ho 51 anni e sono un insegnante di educazione fisica presso l'istituto per geometri Nervi di Alessandria. Sono un montino, nel senso che abito a Monte, la splendida frazione collinare di Valenza e dal 2000 sono anche il presidente della commissione di partecipazione democratica di Monte, sono ormai dieci anni che ricopro questa carica. Inoltre sono il vice presidente della consulta sportiva valenzana nonché dirigente dell'Atletica Valenza. Questi sono i due ambiti in cui sono particolarmente esperto, in particolare con compiacimento voglio ricordare che ho organizzato attivamente il progetto Muoversi per scoprirsi e conoscersi. Un progetto che ha permesso a tutti i bambini valenzani delle scuole materne ed elementari di sviluppare attività motori in orario scolastico con la presenza di insegnanti della consulta sportiva valenzana. Perché Germano Tosetti? Perché è bravo. Secondo me è limitativo dire che è esperto. È bravo. È stato bravo ad amministrare Valenza ed è stato sempre bravo ed attento alle politiche per le frazioni, per Monte e per Villa Bella e l'ho potuto constatare personalmente in questi dieci anni di presidenza della commissione di partecipazione di Monte. Per questo sto con Tosetti, con noi per la città.